Il coronavirus per Piacenza rappresentato su 11 settembre, queste le parole di Cosimo Franco, primario di pneumologia dell'ospedale di Piacenza, in questi mesi in prima linea nel centro Covid di Casa San Giovanni, dove ha salvato insieme ai colleghi centinaia di vite, ma ha dovuto dire addio anche a tanti pazienti che non ce l'hanno fatta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i medici, tutti gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, tutti quelli che hanno lavorato con diverse mansioni, sia a Castello che a Fiorenzuola e anche a Piacenza, visto che in questo periodo si parla esclusivamente di medicina territoriale, non dobbiamo dimenticare tutto il grandissimo lavoro che è stato fatto in ospedale, dove sono state salvate centinaia e centinaia di vite umane. L'emergenza non è ancora totalmente alle spalle, l'ospedale di Castello è un punto di eccellenza da mantenere secondo Franco. Non abbandoniamo Castello San Giovanni, perché Castello San Giovanni è un punto secondo me di eccellenza. È stato il primo ospedale Covid nazionale, non dobbiamo dimenticarlo, là si sono create competenze e la partita non è vinta, la partita non è assolutamente vinta perché qua il virus gira, il virus gira ancora, quindi potremmo attenderci una ripresa e quindi smantellare un ospedale di eccellenza per il Covid, almeno nei prossimi mesi, non sarebbe una buona idea. Il primario si appresta a lasciare Castello per tornare a Piacenza, dove troverà un reparto rinnovato e flessibile. La tecnologia avrà sei letti di terapia intensiva respiratoria, oltre a 11 letti di degenza, quindi finalmente anche a Piacenza ci sarà un reparto molto buono, super tecnologico, flessibile, cioè pronto, se casomai dovesse succedere, speriamo di no, ma se casomai dovesse terapia intensiva. Franco durante la battaglia al Covid ha preso il virus e ammette di aver avuto paura. Ho sperimentato anche che significa stare dall'altra parte e quindi a maggior ragione capisco quando tutti quei pazienti che sono sempre stati soli in ospedale, che non potevano avere l'affetto dei parenti vicino e si sono aggrappati a quegli sguardi, a quegli sguardi a metà, perché fraccaschi, mascherine, eccetera, a quei gesti d'amore degli infermieri che gli hanno fatto compagnia, li hanno tirati su anche nei momenti più brutti, aiutandoli a vincere la loro partita.